Utilizzo il software della SoftLab Hyperspace Beam da diversi anni, anzi dal 2003, quindi ormai sono quasi più di vent'anni e ultimamente mi sono cimentato con una struttura mista, quindi commerciale e residenziale, pluripiano e sono quattro livelli, quindi interrato terra primo e sottodetto e analizzandola ho avuto modo di poter apprezzare quella che è la velocità di esecuzione del calcolo del software Hyperspace Beam La struttura si trova in Marino, in provincia di Roma, la zona sismica è la 2B, quindi è abbastanza sollecitata come zona sismica Ovviamente questo può creare qualche problema a livello di calcolo per il semplice fatto che c'è una commistione di quelle che sono la diversità dei carichi sul commerciale determinati carichi, sul residenziale altri carichi e nell'ambito di quella che è ovviamente l'analisi sismica ovviamente poi bisogna andare a sistemare alcuni parametri che permettono di far sì che tutte le verifiche che espleta il programma vengano soddisfatte